Jacopo Babonischi-Lingi, intanto ben trovato. Sei a Parigi, giusto? Sono a Parigi, sì, vivo a Parigi da 27 anni. Ho letto che hai avuto anche la cittadinanza francese. Quella l'ho chiesta perché ero arrabbiato con i governi precedenti, allora ho fatto la mia piccola crisi isterica contro i governi italiani per dissociarmi, ho detto divento francese, quindi sono passato dal Ministero dell'Immigrazione, nonostante sia della Comunità Europea. Quindi ti lascio continuare i controlli che hanno fatto. Ci racconti questo tuo interesse per l'algoritmo? Innanzitutto raccontiamo anche chi sei, che studi hai fatto e sappiamo che sei un compositore, ma non soltanto evidentemente, quindi chiederti un po' una sorta di racconto della tua vita. Allora, io sono nato nel 71 e ho aderito fin da subito a una forma di musica che all'epoca non è che ci fossero molte scelte. All'epoca, quando uno voleva fare musica, tra virgolette, detta d'arte, cioè detta una musica che riflettesse anche su se stessa, che riflettesse sul perché fare musica, non c'erano molte scelte. C'erano i conservatori dove si studiava composizione. E le musiche pop erano lasciate molto a se stesse, c'era un grandissimo consenso delle musiche pop, però non è che si potessero studiare in maniera accademica, si praticavano. Quindi fin da piccolo ho scelto piuttosto la pista dei conservatori, quindi esco da quelle che sono le forme un po' accademiche della musica. E ho stato composizione fino ai miei 21 anni, poi ho vinto un concorso, mi sono scoperto un concorso qui in Francia, in un centro che si chiama IRCAM, che era all'epoca l'unica grossa istituzione mondiale dedicata alla musica informatica per compositori e non per ingegneri. E poi ho continuato, da lì in poi, diciamo, la mia carriera di artista e compositore è andata avanti in maniera planetaria e pretenziosa a dirlo, però insomma in tanti paesi del mondo, e quindi vivo della mia musica, in parte anche dell'insegnamento. Proprio per questo motivo, per questa eredità della musica scritta, della musica che riflette sul perché e sul come fare le cose, studiando, fin dai miei 18-19 anni, mi sono avvicinato all'informatica, che ripeto, eravamo alla fine degli anni Ottanta, quindi era ancora molto ostile come informatica, non era user-friendly, e mi ero avvicinato perché c'è una parte del pensiero artistico che fu concepita ben prima da me, da un compositore che si chiamava Xenakis, che è morto da quasi vent'anni, che era, ma prima di lui ci fu Umberto Eco e tutto un movimento artistico che formalizzarono una nozione di opera aperta, cioè una concezione, l'opera aperta non come opera lirica, è come opera artistica, cioè come oggetto, come operatività artistica, e in quella parte, l'opera aperta consisteva nel creare un qualcosa che non è mai compiuto, un qualcosa che si rigenera ogni volta che lo si mette in atto. Questo aveva avuto un grandissimo successo in America con il movimento Fluxus, dove il più noto fu Cage, dove metteva fondamentalmente la nozione di performance, non era il concerto dove si studiava una partitura e la si eseguiva, dove l'unica cosa che cambiava era l'interpretazione. Nel movimento Fluxus fondamentalmente ogni volta la performance era una cosa diversa. Quindi dal punto di vista strumentale, perché quando era relegato degli interpreti, l'opera aperta ha funzionato. Quando hanno cercato di farla in maniera, una cosa strutturata, cioè autonoma, bisogna ritornare a un'epoca, negli anni 60 io non ero ancora nato, in cui c'era il mito del robot, c'era il mito di un qualcosa che fosse un'automa e che potesse avere una vita autonoma, perché l'informatica esisteva, l'informatica riproduceva dei meccanismi simili all'epoca, per come si pensasse che noi pensavamo. Cioè c'era una simulazione del pensiero, quella che poi diventò molto presto l'intelligenza artificiale, che è stata dimenticata e che adesso invece sta tornando di moda, ma in realtà l'intelligenza artificiale è nata proprio negli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60. Studiando l'opera aperta da studente, ancora studente, studiando l'opera aperta, studiando la musica scritta, quella musica che riflette su come fare un processo di scrittura, su come andare da A a B in un certo modo, ho iniziato a fare degli algoritmi, cioè a interessarmi, perché o lo si faceva a mano, quindi mi ricordo sempre di un mio coetaneo compositore che faceva, prendeva un tema A e lo trasformava a mano per farlo diventare un tema B e ci metteva magari 15 giorni, perché bisognava fare una serie di, o lo si fa puramente ad orecchio, ma allora quello non c'è nessun problema, ok? O se lo si vuole fare in maniera strutturata, vuol dire dando delle origini strutturali all'interno del processo, io ho iniziato a fare i primi algoritmi che prendevano un tema A e lo trasformavano in un tema B. E poi cosa facevo? Ho ottenuto il risultato, lo stampavo, magari lo correggevo se qualcosa non mi piaceva, lo davo al musicista e lo suonava dal vivo. Quindi il mio primo approccio all'algoritmo in musica, o al mio interesse all'algoritmica in musica, consisteva nel fare in modo di creare dei sistemi, devo fare una premessa, innanzitutto per chi non sapesse cosa è un algoritmo, l'algoritmo è un insieme di operazioni, di comandi, di funzioni, organizzate nel tempo. Quindi non è semplicemente fare una funzione, cioè mettere un filtro su una foto o distorcere un suono, no, significa proprio creare una mappa di eventi che sono conseguenziali soltanto quando un risultato è stato prodotto, allora si mette in atto il risultato successivo. È come immaginare, faccio un esempio assurdo, che un architetto ha fatto il disegno di un palazzo e si potessero dare tutti gli ordini esatti affinché tutti i muratori, tutti gli idraulici, tutti gli elettricisti riescono a montare il palazzo disegnato prima. Ecco, l'algoritmo non è il disegno del palazzo, è l'operatività finché il palazzo venga eseguito. Quindi ci vuole da un primo lato il disegno generale del palazzo, ma poi tutta l'operatività per farlo. Quindi da un certo punto di vista l'algoritmo è un livello di consapevolezza altissimo, perché uno non fa soltanto quello che vorrebbe che la cosa sia, cioè il disegno, ma poi deve addirittura dare tutti gli ordini nel modo esatto, nel giusto ordine, affinché viene costruita l'operato che uno ha scelto. Allora, nell'ambito della musica che io frequentavo, questa attenzione all'operato, a fare in modo che una cosa avvenisse, esisteva già da tempo. Qui sono obbligato a fare un salto indietro, magari a quelli che ci ascoltano, hanno paura delle parole che sto per dire, ma per esempio nella fuga, che è una forma molto antica che risale dal periodo barocco, una volta fatto il tema principale che veniva chiamato in un'epoca il soggetto, quando veniva il controtema, chiamato controsoggetto, devono essere applicate delle regole algoritmiche, solo che all'epoca di Bach, di Vivaldi, se volete anche poi dopo nel classicismo di Mozart, si facevano a mano, ma in realtà facevano a mano l'applicazione di alcune regole specifiche. Quando arriviamo nel ventesimo secolo, all'inizio del ventesimo secolo, questa operatività di calcolo è stato un fenomeno molto importante alla fine della seconda guerra mondiale, quando sono nate le famose avanguardie, cioè quella musica molto ostile, molto difficile, chiamata musica contemporanea, che non ha mai avuto nessun consenso di pubblico, perché, ripeto, era ostile, ostica, severa, rigorosamente non goduriosa, o godreccia, non so come in italiano, però che prestava molta attenzione, ha dato un tema, si chiamava uno tema, in realtà in altri linguaggi si chiamava dato una serie di note, come ottenere le altre serie. Tutti qui, questo è proprio una base algoritmica fatta a mano, ripeto. Io, avendo abbracciato quel tipo di estetica, perché ne avevo voglia, mi piaceva quel tipo di pensiero, avevo trovato subito negli anni Ottanta un'incongruenza fra questo pensiero, di questo calcolo estremamente complesso da mettere in atto, e un risultato spesso, ripeto, molto severo, quando dico severo vuol dire sobrio, severo, dove la nozione di godimento, la nozione di gusto, era stata cancellata dal fatto che l'applicazione di alcune regole fosse corretta. Cioè, io ho deciso spontaneamente di abbracciare un'estetica dove eseguire delle funzioni, nell'ordine, cioè quello che si chiama anche un algoritmo, facendolo a mano, ha privilegiato sempre di più l'ordine con cui queste cose vengono rispettate più che il risultato. La mia fortuna, c'è gente che ha vissuto benissimo così, c'è gente che vive benissimo anche senza informatico. Nel mio caso, non vivevo bene questa cosa, perché tutti quelli che vengono a sentire la mia musica scappavano, i miei amici, i miei coetanei, le mie fidanzate, e quindi dico, caspita, come mai scappano, nonostante la mia musica segua dei criteri che si ritenevano intelligenti, perché non c'era il gusto, cioè io fondamentalmente applicavo delle regole scelte dal sottoscritto, manipolato dal sottoscritto, una volta che la regola era stata impostata il risultato era inesorabile. Con l'informatico ho imparato un qualcosa di diverso, fare in modo di delegare a un computer l'applicazione esatta di queste regole, e la mia specifica, in effetti, quello che ha fatto sì che mi chiamassero in questo centro a Parigi dove ci sono stato per sette anni, e che ho introdotto una cosa tanto intuitiva quanto sciocca, io ho fatto degli algoritmi, quindi dei software che hanno aggiunto la nozione di gusto, tale per cui se devo andare da A a B con un certo tipo di regole esatte, questo lo esegue il calcolatore anche senza di me. Ma io ho introdotto, si chiamano, un termine che cerco di spiegare, delle regole euristiche, cioè delle curve, disegnavo delle curve libere, intuitive, ad orecchio, dove il computer doveva seguire come andare da A a B ma secondo le mie curve. Ecco, questo è il primo esempio di perché mi sono interessato all'algoritmica, ok? Mi sono interessato all'algoritmica in musica perché mi permetteva di mantenere un livello di pensiero tale quale ero capace di concepire. Ma siccome il computer è molto più veloce nell'esecuzione di un calcolo, qualsiasi esso sia, dell'umano, io potevo rintrodurre la nozione di gusto che riuscivo a pensare tanto quanto ero in grado di concepire un concetto, ma nella sua esecuzione di gusto è sempre stato, nel suo punto di parlo dagli anni 50 fino agli anni 80 inclusi, estromesso dal processo stesso di composizione, cosa che il jazz non ha mai fatto, il jazz è sempre dato solo sul gusto, io vado da A e da B anche introducendo cose che non riguardano magari un sistema armonico preciso, non importa perché il gusto è privilegiato, nell'ambito della musica pop c'è solo il gusto, se volete, poiché alcune problematiche proprio non esistono, cioè ecco, io ho cercato con l'algoritmica, non ho cercato, l'ho trovato, questo equilibrio fra quello che sono in grado di pensare lo scrivo sotto forma d'algoritmo e poi quello che sono in grado di sentire lo vivo tramite dei disegni, delle curve che io disegno in maniera totalmente intuitiva perché fare una curva in un senso, fare in un altro è solo una questione di gusto poiché invece il processo è mantenuto dal calcolatore. Da qui, quindi il mio, perché io, per chi avesse voglia di andare a vedere cosa faccio come musica, spesso troverà che faccio moltissima musica elettronica che ovviamente la musica elettronica è gestita da calcolatori quindi gestita da algoritmi. Questa è la mia seconda parte della mia esistenza che è data agli anni 2000 ma in realtà i primi i miei primi dieci anni di produzione seria quindi gli anni 90 chiamiamoli così ho composto musica per strumentisti cioè ho prodotto partiture che venivano stampate poi mandate nelle sale da concerto ed eseguite da ensemble musicale o orchestre però le partiture non state gestite generate attraverso l'uso di un computer ma qui c'è stata tutta una una strana guerra un po' sai quelle guerre che esistono ci sono degli ideali sono una cosa molto bella sono una cosa che ci permettono di vedere lontano però in genere quando si arriva quando vedi l'orizzonte tu vai verso quell'orizzonte quando scopri che l'orizzonte si sposta con te perché l'orizzonte è una visione del mondo è un'utopia gli ideali dovrebbero a volte spostarsi quindi se l'ideale è la scrittura se l'ideale è il pensiero complesso se l'ideale è questo non è perché a un certo punto alcune cose vengono fatte dal computer che il concetto non vale più mi spiego meglio tutta una serie di musicisti quelli che venivano da quello stesso ambiente che io avevo abbracciato della cosetta musica colta ok quando si sono resi conto che un computer poteva fare quello che si faceva a mano di colpo è venuta fuori questa frase ah il computer cioè gli algoritmi a volte userò per noi questo dialogo di oggi la parola computer è un livello ancora più alto di programmazione degli algoritmi ma è rimersa una polemica per me molto seria che dicendo il computer compone al posto del compositore ecco questa è una grande sciocchezza ok perché innanzitutto il computer l'avevo programmato io io come qualsiasi altro avesse questo tipo di approccio e il criterio di composizione che io delegavo come calcolo al computer erano stati scelti dal sottoscritto ed era il sottoscritto che decideva anche come muoversi da un punto ad un altro all'interno di questi calcoli quindi non c'era niente esattamente come se io prendessi una matita per scrivere delego alla mina della matita il fatto di lasciare una traccia sulla sulla carta ecco per fortuna che abbiamo trovato degli strumenti che delegano un certo tipo di operatività è vero che l'algoritmo ha un qualcosa di più per far sì che un computer possa eseguire un calcolo di carattere artistico o comunque dove c'è una volontà non solo di comunicare che io apro una porta e che esco di casa ma che magari c'è una volontà estetizzante dietro cioè c'è una volontà che riproduca un livello estesico come ecstasy cioè come piacere e godimento e un altro magari estetico come pensiero allora bisogna quando si dice a un computer fai questa cosa scrivi un qualcosa dove io dico che apro la porta e esco fuori casa e farlo in maniera poetica il computer da solo non può farlo quindi se lo si riesce a fare dal punto di vista algoritmico significa che c'è un livello di consapevolezza talmente alto che esattamente come dicevo io prima l'architetto che nonostante abbia fatto il disegno di come deve essere esecuito il palazzo che vuole costruire riesce a dare l'ordine esatto di tutte le esecuzioni il camion che deve arrivare con la ruspa per fare le fondamenta come colare il cemento per fare le fondamenta i pilastri le piastre fino ad arrivare ad avvitare le maniglie della porta ecco se uno arrivasse a fare questo dal punto di vista architettonico avrebbe questa capacità di una consapevolezza estremamente alta di cosa vuole e di come ottenerlo quindi l'algoritmo in musica per me è stato prima ancora di creare dei suoni ma per creare delle partiture questo livello di consapevolezza Jacopo tu hai per chi non ci vede in questo momento sei completamente nero vestito hai una camicia nera una giacca nera poi c'è una fascia arancione una cintura portata a metà a metà del tronco direi che tra l'altro fa pandan con il tuo orologio e la tua bio in questo momento questo è un tronco estetico molto raffinato che cos'è? perché l'ho vista in tante tue fotografie esatto allora qui mi permetto rispondo subito è un sensore di respirazione che monitorizza spero che sia così in italiano ho imbastarrito la mia lingua con 30 anni di vita in Francia che monitorizza che legge in tempo reale la mia respirazione e che trasforma sempre in tempo reale la mia respirazione viene trasformata tramite della sintesi sotto forma di uno sferoide una sorta di sfera che si gonfia e si sgonfia con le molecole d'aria finte perché ovviamente è un software che riproduce quindi i miei polmoni questo sferoide indica anche le mie posizioni in X Y Z nello spazio se sono sdraiato se sono in piedi via dicendo e la parte puramente grafica è accompagnata da una parte audio dove io genero musica per il semplice fatto di respirare perché ho fatto questo progetto allora la battuta più sciocca perché fui pagato per farlo questo progetto la battuta più sciocca un po' da snob è che ho deciso di farmi pagare per respirare ecco questa è una veramente una buttata non dicono qui in francese ok in realtà no ho conosciuto un ingegnere un genio secondo me che vive a Milano si chiama David Cooler perché è di origine americana dove lui aveva iniziato a concepire un sensore che serviva giustamente per monitorare tutte quelle persone che hanno dei grossi problemi respiratori adesso allora importante dirlo questo è nato tre anni fa quando il covid non esisteva adesso potremmo raggiunto pensare che sia un recupo questo strumento che ho portato su di me da tre anni era prototipare adesso a causa del covid diventerà un sistema per monitorare le persone negli ospedali ecco questo David Cooler proprio perché lavorava in ambiti quando si lavora sulla respirazione non è mai positivo vuol dire persone che magari hanno avuto di grossi incidenti sul lavoro o d'auto e hanno la cassa toracica completamente ricomposta o persone che escono da un tumore e quindi lui lavorava insieme negli ospedali per vedere come come aiutare queste persone a ritrovare una respirazione normale e conoscendomi avendo visto i miei progetti lui mi ha detto Jacopo perché non pensi piuttosto a fare un omaggio alla vita e allora gli ho detto l'unica cosa che posso fare come omaggio è portare su di me sempre questo sensore quindi dal maggio del 2017 io lo porto 24 ore al giorno 7 giorni su 7 e un genere musica che viene prodotto fisso su YouTube da appunto da ormai tre anni quasi e che è stata esposta per l'esposizione universale in Kazakistan ad Astana nel 2017 qui a Parigi al Grand Palais che è un grosso museo è stato esposto per quattro mesi e poi ogni tanto ci sono delle gallerie che vogliono esporla perché fa parte di una cosa un po' atipica cioè è un algoritmo che io porto su me stesso ho detto una sciocchezza è un sensore che porto su me stesso ho creato degli algoritmi semantici uso questa parola in maniera molto precisa cioè che interpretano quello che sto facendo questo è uno stradio dell'algoritmica un po' più evoluto cioè non si tratta solo di maniera analogica anche qui sono specifico nelle parole è digitale tutto questo avviene tramite sensori digitali però lo sferoide che si gonfia e chi si sgonfia lo fa in maniera analogica alla mia respirazione ok ma la musica che viene prodotta analizza la qualità della mia respirazione come in questo momento per esempio so che sto respirando molto con la parte alta quindi sto facendo molte apnee quindi sono un po' stressato diciamolo così quindi la musica per chi andasse a sentire su internet quando sente degli acuti sempre costanti è perché sono in una fase di agitazione se sento una periodicità molto stabile perché sto quando si fanno dei calcoli mentali quando scrivo una mail quando scrivo un sms quando scrivo un testo la respirazione è sempre molto regolare invece quando si cerca un oggetto in casa questa è una birra una matita il proprio gatto diventa una respirazione molto più aleatoria quindi l'interpretazione di come mi sto comportando ho definito insieme ad altri ricercatori una dozzina di comportamenti che non sono tutti quelli che sono individuali ma sono già abbastanza il software cioè gli algoritmi interpretano come sto respirando sia in tempo reale sia all'ultimo minuto di respirazione perché per esempio se mi mettessi a tossire ci sarebbe un'accelerazione della respirazione ma è un evento locale se invece il software reperisce che ho un'attività aumentata magari sto correndo o magari sto parlando ecco questa dà un'interpretazione semantica per cui traduce in suono in immagine quello che io sono poiché e qui apro una parentesi non è che una parentesi apro il perché lo porto su di me e questo ci tengo a dirlo perché tutta la differenza fra un gadget e un progetto artistico sta nella sua nella sua inserzione nel suo inserimento in termini di una traiettoria il gadget per me è qualcosa che viene trovato per colpo di ingegno ok che esiste per un tot e poi sparisce perché non non ha una sua tracciabilità invece quello che può essere chiamato con tutte le proporzioni di linguaggio il colpo di genio l'intuizione geniale è un qualcosa che in effetti emerge in un certo momento perché prima non c'era che però si iscrive in una traiettoria un po' più ampia ecco questa traiettoria un po' più ampia voglio di descriverla perché non sento di portare su di me un gadget noi siamo questo può sembrare strano che stiamo parlando di algoritmi ma perché spesso la gente pensa all'algoritmo come un'applicazione stereotipata degli smartphone delle smart house cioè di tutto ciò che è interattività no c'è un volere un po' più profondo e mi sento in dovere di dirlo noi siamo apparteniamo al regno animale no c'è tutto questo studio sul regno vegetale che comunica le comunicazioni delle foreste le comunicazioni delle piante è verissimo le piante comunicano così come la bottiglia che ha versato l'acqua in questo bicchiere ha comunicato perché i vasi comunicanti esistono da quando abbiamo scoperto che la comunicazione è un passaggio di informazione quindi nel regno vegetale esiste la comunicazione nel regno animale esiste la comunicazione ma noi esseri umani siamo definiti in francese quindi troverò una traduzione italiana plausibile siamo degli esseri langagier che vuol dire in italiano non linguistici dotati di linguaggio ok che è una comunicazione a uno stadio un po' più alto cioè anzi il linguaggio è stata la nascita e fin qui non c'è niente lo sappiamo tutti ma la cosa interessante è che dopo la nascita del linguaggio abbiamo iniziato a scrivere cioè noi siamo gli unici esseri del regno animale che lascia delle tracce ok che chiamiamo scrittura in genere che hanno una portata più ampia del nostro corpo cioè gli animali lasciano delle tracce non degli oggetti lasciano degli operati dei nidi delle piccole dighe se si pensa ai castori che tendenzialmente hanno la longevità della loro vita tendenzialmente ok ma non hanno la volontà di lasciare delle tracce per gli altri proprio perché noi siamo degli esseri dotati di linguaggio siamo anche degli esseri impegnati sulle cose che sono state tralasciate degli altri cioè io ancora oggi sono fedele al diritto dell'uomo e della donna aggiungo perché quando è stata redatta la carta di diritto dell'uomo non è stata messa la parola donna quindi c'era un livello patriarcale molto forte sono attaccato dei movimenti estetici a dei movimenti sociali che sono stati definiti prima della mia nascita questo perché ci sono le tracce ok la traccia è per noi umani ciò che a volte ci permette di pensare a non la posterità ma all'alterità che a volte l'alterità avviene nelle generazioni successive a me della posterità non mi è mai fregato niente perché faccio una musica che so che ascoltano in pochissimi scritta come opere d'arte ma è anche la traccia di me stesso in tempo reale cioè la respirazione lavorando con questo ingegnere David Kuller è uno dei meccanismi fisiologici che non può mentire mi spiego meglio quando si analizza il comportamento di una persona se mento si c'è la verità quindi cosa vuol dire mentire sul massimo di aderenza fra quello che una persona è e quello che vuol mostrare di se stesso l'iride non è molto fedele perché se io guardo una fonte di luce l'iride si stringe immediatamente indipendentemente dal fatto che si è stressato il battito cardiaco se bevo tre caffè di fila aumenta anche se sono rilassato la respirazione non mente la respirazione è uno dei valori fisiologici che fa capire a chiunque se sono stressato se sono rilassato se sto dormendo se sto camminando e via dicendo quindi ho deciso di lasciare anche una traccia fissa per chi avesse voglia di andare a sentirsi la mia musica ok? ma una traccia molto strana vedo che YouTube salva tutto ma non è colpa mia purtroppo YouTube ha salvato mesi di respirazione però poi sono matti loro ma in realtà è un modo per far vedere che esisto come artista in qualsiasi momento della mia vita quindi ho firmato un contratto a vita con questo produttore ed è il motivo per cui lo porto 24 ore su 24 da tre anni questo sensore quindi non è un gadget perché non l'ho messo su me stesso per dire ho trovato l'astuzia per fare l'originale no 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 lavoravo già da tempo sull'algoritmica ho fatto c'è un'altra espressione artistica a cui ho aderito molto sempre che eredita dall'opera aperta di Umberto Eco che sono le installazioni musicali cioè si tratta di una musica dove non ci sono dei musicisti che eseguono questa musica ma ci sono dei software dei computer che producono dei suoni e che interagiscono col pubblico ecco io sono molto attirato e mi esprimo mi sento più mio agio attraverso questo tipo di espressione artistica che attraverso le orchestre sinfoniche nonostante io venga dalle orchestre sinfoniche per quello che ho voluto fare questa precisazione vengo da un tipo di musica totalmente scritta molto accademica che è stata anche molto spocchiosa molto molto altezzosa che pretendeva che il pubblico non capisse la musica che facevamo che l'avrebbe capita oggi non è vero la musica che è stata fatta negli anni 60 ancora oggi rimane ostile per tutti ecco vengo da quella musica ho cambiato come molti cambiano per fortuna nel tempo e adesso mi esprimo sempre attraverso gli algoritmi non più sotto partiture scritte ma sotto ambienti sonori sono avuto una volta a Milano anche al paviglione dell'Unicredit in Italia hanno fatte poche installazioni hanno fatto un po' più all'estero dove appunto io definisco i comportamenti che questa musica deve avere se non c'è nessuno spettatore questa musica è silenziosa non suona nel momento in cui c'è uno o più spettatore questa musica non è soltanto attivata come se fosse un interruttore come se fosse una scala mobile che si mette in moto come se fossero le porte dell'aeroporto che si aprono si chiudono no no un po' di più questa musica prende in conto tramite delle telecamere o a qualsiasi tipo di sensore i movimenti del pubblico che li trasforma in parametri estetici e quindi l'installazione esiste perché l'ho disegnata io i suoni esistono perché li ho composti io ma come questi suoni verranno eseguiti e per quanto tempo e addirittura come vengono cambiati dipende dal pubblico che lo ascolta ecco questa è una mia impostazione estetica perché aderisco con questa questa visione del mondo dinamica e quando questo ingegnere mi ha proposto di portare dentro di me questo strano sensore arancione ho abbracciato subito questa questa proposta perché permetteva di esprimermi in altro modo che non sarebbe possibile Jacopo ti propongo due domande veloci abbiamo ancora un 6-7 minuti poi credo che ci scada anche il collegamento allora la prima non ti dà fastidio proprio secco non ti dà fastidio 24 ore al giorno la fascia? no perché questa arancione la porto solo quando ripeto quando se tu devi usare questo video quando faccio traverghe le foto ufficiali in realtà è un elastico semplicissimo che ti faccio vedere che è una sorta di in francese si chiama soutiengose di reggiseno senza senza i segni senza le bretelle è un elastico che se non porto adesso mi manca se non lo ce l'ho mi manca quello si l'altra cosa velocissima è ma questo uso dell'algoritmo è una cosa che poi ha avuto sta crescendo il seguito oppure no mi riferisco non solo alla musica colta ma anche alla musica che ascoltiamo di più tra i giovani per esempio questa è un'ottima domanda no hai ragione tu non ha avuto un grande seguito perché sono nati poi i cosiddetti plug-in i plug-in sono dei sottosoftware che fanno delle funzioni specifiche e la gente pensa che usare un plug-in sia uguale a usare un algoritmo certo che in un plug-in per esempio si usa un riverbero cioè faccio un suono che viene prolungato come se non fosse in una cattedrale anche se sono nel mio studio di produzione quello è chiaramente un algoritmo però un algoritmo funzionale e monofunzionale cioè fa un'unica cosa allora quello che è successo per i giovani non c'è stato uno sviluppo dell'algoritmica tale quale io ho appena descritto ma c'è stato uno sviluppo macroscopico industriale e molto bello ripeto degli li chiamano in inglese giustamente plug-in o plug-and-play cioè lo attacchi e funziona che sono delle scatole prefabbricate e che producono degli effetti specifici quindi sono un po' come un frullatore ok cioè io compro un frullatore che permette di frullare un certo tipo di cose per fare la granita o piuttosto che per fare il milkshake benissimo però se voglio fare il toast devo prendere il toast a pane ecco quello è un altro plug-in quindi sono delle funzioni specifiche non intercambiabili che sono su base algoritmica perché sono comunque tutte più o meno programmabili posso fare il toast ben cotto posso fare il toast scottato da una parte posso fare dall'altra ecco quindi proprio perché se sono programmabili sono degli algoritmi però sono degli algoritmi un po' più vicini al telecomando della televisione ok come modalità che agli algoritmi che invece vengono usati in altri ambienti per esempio Google è uno degli algoritmi più potenti che esiste sul pianeta tutti quegli algoritmi è un motore di ricerca per noi utilizzatori dietro c'è un algoritmo di identificazione della persona che sta cliccando che è potentissimo quindi per i musicisti quelli chiamiamoli così musicisti giovani che fanno la pop non c'è algoritmica per i musicisti che gli artisti più che musicisti che usano anche suono con una volontà un po' più articolata allora sì c'è uno sviluppo algoritmico ultima domanda è c'è un aspetto grafico della musica o no della tua musica cioè c'è una partitura oppure è tutto lasciato ah nella mia musica è partita questa è una domanda enorme io scrivo le partiture ancora a mano io ho rifiutato allora questo è importante io ho rifiutato la scrittura delle partiture su computer e le scrivo sui corpi delle persone a questo ti rispondo velocissimamente c'è un movimento artistico che si chiama il transumanesimo credo che in italiano cioè il fatto che le persone portino dei sensori di varia natura su se stessi si sono considerati come delle persone aumentate vedo che tu porti gli occhiali e anche io li porto per leggere non credo che quando gli occhiali sono nati ci siamo considerati degli esseri aumentati capisci e quando tu prendi l'ascensore non credo che tu ti senta aumentato quindi c'è una moda in questo momento che si chiama il transumanesimo che considera una ridefinizione del corpo perché viene esteso come possibilità attraverso i sensori ecco io sono contro questo io sono più un consubstanziale cioè la transubstanziazione per gli italiani che alcuni la conoscono c'è una visione tale per cui un qualcosa si trasforma in qualcun altro io credo che la mia sostanza del mio corpo vive insieme ai sensori ma non sono un'estensione di me per questo motivo io da 14 anni ho deciso di non scrivere più musica attraverso il click del computer ma di scriverla su dei corpi umani di modelli e modelle qui dietro di me vedo alcuni micro esempi se no ti posso mandare delle foto se ti interessano che sono i supporti su cui scrivo cioè sono dei supporti che respirano e che proprio perché sono degli esseri viventi hanno delle asperità dei comportamenti delle imprecisioni che il computer non ha cioè il vantaggio del computer nel poter formalizzare il proprio pensiero è una cosa lo svantaggio è la nozione delle idiosfere le idiosfere sono le sfere sono l'insieme degli idiomi che ognuno di noi possiede fino a qualche decennio fa tu potevi riconoscere un avvocato da come era vestito da come si muoveva da un chirurgo anche se non stesse operando da un pompiere anche se non stesse perché le idiosfere i movimenti erano dettati dal loro lavoro capisci tutti dietro a un computer abbiamo gli stessi comportamenti quindi le idiosfere si sono ridotte talmente tanto che oggi se io devo scrivere una nota di 30 secondi o se io devo scrivere un passaggio con tantissime note o se io devo scrivere una pausa cioè il silenzio di 30 secondi uso sempre lo stesso click noi sappiamo dalla psichiatria che quando le idiosfere sono piccole sono molto 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 piccole cioè ridotte siamo di fronte degli idioti l'idiota uomo donna che sia è quella persona talmente specifica in se stessa che non riesce a comunicare con gli altri ecco noi siamo in un mondo idiotizzante lo dico perché potrebbe sembrare un paradosso io uso tecnologia addirittura la porto su di me faccio musica super tecnologica ma non ho confuso uno strumento con me stesso e per questo per rendermi conto che io sono un essere umano vivente che respiro e che invecchio scrivo su persone umane e quindi le mie partiture c'è un apparato grafico gigantesco faccio esposizioni di fotografie quindi addirittura espongo le mie partiture perché ovviamente se scrivo su dei corpi umani poi devo prendere delle foto per poter trascrivere le partiture queste foto hanno avuto molto successo e quindi sì una parte grafica della mia partitura non è per niente algoritmica è totalmente umana e in questo senso mi considero consustanziale cioè la mia sostanza di uomo coabita con la sostanza tecnologica degli strumenti che utilizzo e Grazie a tutti.